Cesio Maggiore si prepara un'estate in cui ci sarà da pedalare. Il paese della bicicletta infatti sarà interessato da una serie di manifestazioni ciclistiche che nei prossimi mesi porteranno in paese centinaia di appassionati. Si parte già in questi giorni. Iniziamo adesso già in aprile ad essere interessati dal passaggio di ciclisti con la manifestazione organizzata dal Comune di Feltre Viva la Bici che inizierà proprio adesso i prossimi giorni in cui saranno coinvolti il Museo della Bicicletta di cui noi stiamo ultimando il riallestimento della parte delle biciclette storiche e il Museo di Seravella. Poi due importanti appuntamenti con il ciclismo giovanile. Ad inizio giugno il nostro territorio sarà interessato dal campionato Veneto Juniores organizzato dalla società cicli San Vido di Cesio Maggiore quindi soprattutto la frazione di Soranzen con un percorso ad anello. A fine luglio con l'ultima tappa del Giro del Veneto classe Elite Under 23 una delle più importanti gare a tappe a livello nazionale. Ci sono squadre anche estere che partecipano. Infine l'iniziativa forse più curiosa. I nostri concittadini veri appassionati di ciclismo in collaborazione con un'associazione ciclistica della Sinistra Piave sta organizzando la prima San Vido Historic. Un percorso da fare con biciclette storiche vestiti con l'abbigliamento storico del caso. Quindi una manifestazione sicuramente molto interessante e molto simpatica che darà visibilità al nostro territorio.